Prima di fare la nomination c'è un video messaggio di un tuo amico che ti voglio mostrare Wow, un amico vero? Eh, direi di sì Ciao fratellone, io lo so che cosa stai pensando ora Niente, questo è un mio messaggio per dirti che stai andando veramente fortissimo Perché? Perché tu hai conquistato tutti e tutti ti vogliamo bene E tutti ti vogliono bene Perché tu sei Riccardo e continui a essere Riccardo sull'isola, sul palco, in mezzo alla gente